Il calcio. Parliamo di calcio. Allora, come sta Ambrosini? Sta bene? Rui Costa? Sì, sì, ora, ancora non ci sono prove della sua situazione. Buonasena, buonasena. Ancora non c'è niente, nel processo a Cristiano non c'è niente ancora, quindi lo lasciano in copertina per quello, cioè non ha fatto nulla per adesso. Poi si scopreranno cose, immagino. Pagliuca, Pagliuca, come sta? Chi è? È un mio amico, ciao. Pagliuca Aerojet. Pagliuca Aerojet. Ciao Pagliuca Aerojet. Un attimo, che io devo creare le cose. Marco, ho finito di montare il video, l'ho caricato, però è una merda, Marco. E vabbè, allora lo portiamo dal carroattrezio, va bene? Va bene, va bene. A dopo, carroattrezio. A dopo, a dopo, ciao, ciao. Ciao Carlo. Non so quando ho il telefono. In realtà la faccenda di Cristiano Ronaldo fa acqua da tutte le parti. Ma come... Ma sì, sì. Ci sono un sacco di queste robe, perché chiaramente poi viene fuori una ragazza che dice Nel 2004 Ronaldo con l'unghia del mignolo mi ha sfionato in metro il seno. E poi arriva un'altra ragazza che fa, a me proprio mi ha palpato il sedere. Anche a me la rotola non ce l'ho più, me l'ha ciucciata tutta. E quindi tutti quanti poi sì. Poi magari c'è del vero, magari no, non lo sapremo mai. Però insomma, sono accusi un po'. Non è che non lo sapremo mai. Se ci sarà un processo, poi lo sapremo. Non lo sapremo... Cioè, la realtà assoluta... Non si saprà mai. Magari le ha stuprate 18, magari non ha toccato neanche una donna. Non sapete. Magari le doop work, però... Se non ha fatto un contratto di non si parla, eh... Qualcosa è successo, perché se gli ha dato 350.000 euro... Quella cosa lì, effettivamente... Qualche chiappa la deve aver toccata. Qualche chiappa l'avrà. Il fatto è che mi sembra strano che... Poi vengano fuori tutte dopo le al... Cioè, o che passasse la prima... Guarda, è successo questo fatto, mi ha dato i soldi, ok. Poi ne spuntano fuori le altre 16... Anche perché la prima, quanto pare, è saltata fuori tipo una confessione sua... Esatto. Quindi dici tu... Sì, è vero. È abbastanza... Attendibile, è lui. Può essere anche che si fanno coraggio e dicono... Ma queste qui l'hanno detto, siccome anche io sono... Certo, no, no, certo. In quelle parti, allora dico anche io. Scusa, sei stato... E vabbè... Anche che mi spesso... Una metafora. Ma che vi spesi pure. Anche lì è stato un genio lui. Ma tu hai toccato... Hai toccato un bambino? No, no, io sono gay. E quindi? E quindi? Questa è un'ingiustizia perché Ronaldo nel mondo del calcio non può dire mica che è gay. Ma perché non è vero, principalmente. Non l'ho capito a Dabo io. Perché sono nel mondo del calcio. Vai a dire nel mondo del calcio che sei gay, che casino si crea. Quello l'ha detto. Perché? Ci sono dei... Ma c'è Erika? Mica l'ho vista io. Chi è? Ma ha suonato? L'ha sms? Ma ha perso tutto. No, ma l'ha fatta due ore fa, l'ha rinnovata, ma non l'ha condivido. Ma perché mi... Ha perso la stricca? No, segna sempre. No, perché la devi quando la condividi. Ah, ok. Ok, ok. Siamo più negli anni 70. Un bacino, Erika. Chi è che manca in questo gioco? Allora, ci sono parecchi, parecchi... Qual era quello lì che aveva fatto... Della WWE Corvo? Aspetta. Era coso? Eh... Quello che lottava con Taito su Neil, Darren Young. Darren Young, esatto. E da lui se ne era parlato un po', poi... Poi basta che parte... Perché non sapevamo cosa farsene. Non lo sapevo che nel calcio comunque era un tabù l'homo se sorrere. Che cazzo vuol dire? Senti il tabbo, senti. Beh, un tabù. E ma perché nel calcio lo hai detto? Ma non è che... Allora, secondo me nello sport hanno paura di uscire fuori determinati atleti omosessuali, ma perché hanno paura di vari pregiudizi. Ma perché dici... Perché negli spogliatoi si vedono tutti il pene. Allora dici, ragazzo, tu sei omosessuale, però mi vedi il pene, non vale. Non credo sia quello il motivo. No, però basta uno che dà coraggio agli altri, poi secondo me... Qui sono tutti gay. Perché dopo The Ray Young ce n'era un altro che aveva detto di essere omosessuale. C'è stato più di uno. Ah, ha poco tempo. C'è stato Scenion in WCW che aveva dichiarato di essere omosessuale, forse. Cassano di... Allora, posso citare Cassano qui? Parole di Cassano. Ma però è brutto da dire. No, non lo dico. No, ha detto in un'intervista, l'ha detto sono froci, problemi loro. Però è Cassano che è proprio l'esempio di ignoranza. Sono froci, problemi loro. Sì. Però Cassano è proprio l'esempio. Nel senso, è vero. Eh, ma... Ma sì, ma sì, già il fatto che tu dici... Però il concetto è quello. È Cassano, non è che gli puoi dire... È un uomo che si è ritirato 466 volte dal calcio. E gli vai a dire, guarda che hai detto delle cose brutte. Cosa ho detto? Non lo capisco. Sono inside, amici. Molto bene. Sì, Cassano che dice, voglio tornare, mi sento un giovincello. Poi lo prende una squadra di serie B. No, basta. Io col calcio ho chiuso. Allora, stai zitto e vai via. Probabilmente hai detto, ma cazzo, ma mi tocca correre. Esatto. No, dai. Buona che è andata veramente così, eh. Il concetto era giusto. No, beh, il concetto è vivi e lascia vivere, sarebbe. Sono io, sono il Dabo. Sono io, sono il Dabo. Cosa, però, invece? Eh, che hanno chiesto chi è i tuoi di pubblico. Ah, giusto, è vero che Dabo non ce l'ho quasi mai stato. Non mi ricordo, è una B2. L'avete visto, per chi ha seguito la live di stamattina, era... è lo Sdafga Game, quindi... Esatto, quello che non è capace di giocare a Rainbow Six. Perché ha giocato a Rainbow Six. Ma guarda che ancora per... Non ce la stanno facendo a sistemare il perruzzamento? Che fastidio. Non è possibile. E' uno fermo. Dabo, io ti rompo il culo, eh. Vai, Liezar, fammi vedere come sei... Un cinocchio! Vabbè, lui, un cinocchio! Mamma mia! Francesco Totti, in arte na cacata. C'è Dabo un po' fermo. Dabo? Eh, successo... Non mi ha preso il pad, non mi ha preso. Non mi ha preso la tastiera. Non l'ho utilizzata, quelle problemi. Lo sai che l'altra volta a Corno ho usato la tastiera, ma non è successo niente? No, c'era sotto la gente. Carazzo, ragazzo. Perché, sovra al pensiero, mentre stavamo giocando a Pro Club, sono andato nel secondo schermo a guardare Telegram. Non è successo niente. Te lo fai prima che trovo la partita? No, 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 stavo gioca... E che era un'azione difensiva e quindi non stava succedendo niente, sono andato un attimo... Ah, quindi Dabo funziona adesso? No, infatti esco, esco, esco. Esci, per fortesia. Guarda, quel lumino immobile lì. Che andava lì, nell'angolo... Non era per loro. Sono il Borussia Dortmund loro. Ho ucciso lì. Faccio, faccio l'amore, faccio l'amore. Faccio l'amore sul trono di... Vai. Il sesso. No, bro. Eh, no, pensavo che ti allargavi da destra. Eh, abbiamo dei ciccioni alla gente. Eh, vabbè, ho capito, si mangia come un obesone. Marca miseria, sto fanno... Ma abbiamo vinto! Abbiamo vinto, Dabo! Prima vittoria schiacciante dei termosifoni. Abbiamo vinto! Vittoria schiacciante. Mamma mia, questa era vinta, questa era vinta. Mi ha dato tre punti, giocatore. Aspetta che gli aggiungo. Cazzo, che potrei... Prima vittoria, ragazzi. Prima vittoria, tra l'altro. In questo caso la prima è vergine... No, di questa divisione. Perché siamo tornati nella sette. Vabbè, ma meglio così, guarda. Perché siamo arrivati fino alla sesta. Eravamo in terza divisione, eravamo... Anche seconda, eh. Come tanto non lo conta? Sì che lo conta. Sì che lo conta. Sì che lo conta, c'erano tre punti. Certo. Allora, aspetta, devo trovare un po'... E la partita è già iniziata... Dalla vittoria a tavolino, esatto. Sì, dalla divisione, se no non lo racconta. Sì, se si sconnettono durante il caricamento non te lo danno. Come vedo il titolo della canzone? Io l'ho tolta. No, l'ho cambiata! E se dice... Ci manca, Moro. Moro. Filati. Scusami, stavo perdendo le canzoni, manca anche il corvo. Andiamo a Marlino! Sono l'84, sono fortissimo. E ho capito, ma devo andare nella sezione della... Io sono all'86. Era quello che faceva... Io sono all'83. Quella che fa... Quella lì? No, era quella che poi controlla la... Ah, che poi c'era quei piatti, va già... C'è un po' di piatti. E poi c'era lui che dopo te lo facciamo. Oh, amore... E' una gran cazzo, ma no? no,乔bero. E' user friend E' user friend Ooh, è la mafia To me Ah, è user friend E' user friend Ho John And we Vincere Finita la canzone Se non sai il testo Se non sai il testo testati Da qualche parte c'era grazia E allora Era ora Ma come scattava Ma che angolazione è questa Perché Sta giocando E abbiamo vinto E cosa dici E abbiamo vinto La live non sa da fare No non è vero che abbiamo vinto Ma feci è inteso come verbo No no proprio l'escremento E rientriamo Adesso c'ho la canzone quella che fa Invece c'ho la canzone che fa E quanto male Bella che è quella canzone Io ringrazio di avere la musica bassa Fammi un applauso con i piedi Ora che sono ancora in piedi Mi fanno sesso No non era così Vabbè Dov'è? I sfighi chiedi? I fighi neri I fighi neri? I fighi neri I fighi d'India neri Per caso E certo che fa Come si chiama quello che ha l'orecchio assoluto Dei gemelli diversi lì? Fernando Ciro Caravano Ciro Caravano Ciro ecco Claudio Grazie bravo Sette mesi Grazie Brava Adesso c'ho la canzone quella che fa He's seen What's seen He's 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 seen What? Che vede di scassabaglia quando vi ci mettete Guarda che è veramente tutta così Corvo Sì sì Meno male che ho passato l'audio Io non ce l'ho la musica per la live Io stavo facendo il simpatico Mi sono allenato anni per Per accap Allora ci c'ho un rutto in golla che se lo faccio mi sputo il bacon di rollo Sì Davo ci sei Oh che bello Perché sono a destra? Ah che passabile L'ho fatto filtrare Mi ha segnato Ergege Ergege grazie Ergege Andiamo a Berlino? No non andiamo a Berlino con lui Perché è poverino? Mi ha fatto un tunnel Morelli Morelli Mi ero allontanato Vai Marco Che rimpallo Morelli Che zelo Morelli Che zelo Mi chiamavano il piedino dei pala Può far che mi ha prenduto il tasto il mio dito E quindi è successo quella cosa Vai Luke Difendi come se non facessero il Morelli Che portiere mamma mia Questo è arrabbiati eh Sì sì Ho fatto farlo sulla palla Sì Ti do un calcio Scusate ma uno Me lo dovete farci Bamba Fortissimo Difensore Turam Eh però ci ho provato Sì Quanto scivolato Perché è veramente di abbiate grasso abbiate amici Allora Corvo Allora se vuoi arrenderti subito Allora Allora Gotarda Gotarda Botarga 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 Sei pazzi Dai che sono fuori ruolo mi sta dando voti negativi qua Anche a me perché devo andare avanti ma devo difendere Edda mi sta parlando Eh nooo Bravo bravo Facciamoci vedere al centrocampico Allora portiere mi raccomando Anche a me perché sono la Giulio Ma guarda quanto mi stanno tenendo La presa Passaggi Vai Corn Viaggiamo come No Ma che fai Mi hanno giuncato da dietro Che si Non mi hanno giuncato Ma non mi chiamesti a Corvo sei pazzo Ma guarda te Ma ho fatto solo piedino dai Eh piedino dai Ma un c***o ti chiami adesso E vabbè E vabbè Cartella clinica Mi ha bafferato un po' Ti ha bafferato Sono un baffetto Liezar Ma che passaggirio Completamente c***o Porca vacca Ma è rovesciata Ma come hai fatto Ma come hai fatto Ma prendo la prenda Lo chiamavano Pietro Gamba di Legno Ma non è vero No Ah non è vero Scusa Dai Com'è possibile Ha ruotato la palla per non entrare nella forza Com'è che guarda Una partita come quella che abbiamo fatto ieri sera Non ci può essere Ah no Troppi pali Ieri sera abbiamo fatto una prenda Abbiamo preso 7 a 1 Mamma quanto sono aggressivo oggi Sono power Abbiamo fatto 10 tiri in porta Tutti i pali Loro ne hanno fatti 6 6 gol Probabilmente Ma no 6 e 7 gol Sette oppostanti Vado lungo Ma perché Molumbo E va Passa Marco È troppo addotto Eh adesso chiedi troppo Corvo Ratata Parca miseria Io ho sbaglio che vado sempre sull'X Ma invece devo anticipare No quanto veloce è quello Sei dei Fnatic? Di esperienza? No Non sono No Domanda particolare Parca miseria Porca Allora c'hanno un giocatore che sta facendo tutto il campo avanti e indietro correndo Prima o poi scaccherà È mezzo morto Molumbo Bello Corvo mi allungo Eh visto che tacchetto Bravo Siete lunghi Siete lunghi Morelli Radicchio Eh vabbè Non ci stava seguendo da troppo tempo Pallone interessante Ma cacchio Mamma mia Questo proprio non ci voleva Non l'ho mai capito Hanno sfruttato al meglio il maggior possesso palla Capitalizzando una delle tante occasioni create Sono qui Eh? No Tu cosa ne pensi di questa partita? Chi? Ah ecco Dabo Dabo Ah non l'ho sentito Eh Questo è un pensiero molto profondo Ah dai Mi ha baffinato di me Dalle parti del colon Lo chiamavano gola profonda Dabo per questo pensiero Ma Allora Porca macca Sì Mumu 7 Dagli di più Dagli di più Luke Dagli di tacco Dagli di punta Guarda quanto è buona la sono assunta Eh stiamo a quello là Era così solo Eh vabbè ho capito Ma loro c'hanno one pun guy Però abbiamo qualcuno sulla fascia sinistra Che non rientra mai È moro È moro È moro Io non ero sulla fascia sinistra Dovresti Dovresti Eh lo so Se l'esterno sinistro Ma perché ci mette A me c'entra Eh anche a me Mette a destra Ma solo al calcio d'inizio Poi durante le altre cose Mi posiziono dal lato giusto Eh perché così ti disponi poi Nella maniera adeguata Ma io mi confondo Eh la madonna Corno Ricrossala Rui cosa Non sa perché era così lunga Teniamo botta amici Ma che domizzi Ma come Vai in tira Non è vero Liezzar Era per Allora Ma c'è Hugo di Lost Di là Cosa fai Balletti Cosa fai Fabrizio Mi rompe Solfrizzi Dei miei Trampatoni Carca misera Chi è che mi ha ribaltato A me Oh Trampattoni Sprunzo E niente Oh questo qui mi fa Incappare Marco sei tutto lungo A lungo per Fabrizio Un po' anziano In queste vesti Ma Aia mi hanno ammazzato No era Corvo Che paura Un po' più vecchio ancora Se possibile Aia Ma questo E non le fallo Va bene Luke Non avere Non avere paura Luke Rompigli le gambe Non ti Non ti Sa cosa dice Marco Barzaghin Ma Mancano 4 ore e 10 minuti Perché ero ciccio Ma di mano Di mano infatti Non potete Spelge Per il fatto che ha fatto Ho fatto un Barzaghin Un po' ciccio gamer Un bagliato A questi fanno una situazione Da vicino Non facciamo le cazzate La pasta L'ha fatto double Ma io non ho fatto nulla Eh sì Io l'ho visto slettare via Come un'anguilla E la tua ma c'è Per più Luke Alla tua destra Cazzo Quasi Oh quasi Io dabbo Una permanente con le feci Ma le mani sono storte Certo Ma perché gli ho detto Alla sua destra Per favore è possibile Imbarazzo Togli la scritta che non vedevo chi Arca miseria Ma una pallonata in faccia L'abbiamo sembrizzato Sono qui Moro Eh ma non arrivavo alla palla Però non mi erati giallo Stanno qua lungo Molumbo Eh quanto mi ha spinto Eh ho capito Ma ha fatto la spiar E sentiva mezzo Tutti negli spogliatroi Io posso intepere anche Un test di gravidanza Perché secondo me Il danno l'ha fatto Guarda Non più le cose Si pare A 65 esimo Siamo contro dei dentifrici Ma com'è che fuori dalla live Facciamo le quadriplette Che si chiamano poker No 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 Sarà che Mancava dabbo Dovete l'acqua di Spence La l'elenissima Guarda No Giorgia Non lo so Non ancora rischio espulsione Anzi Eh Ve la dirò tutta Scusa Io sono un po' basso Sono 1,80 Ah scusa Avvicino il microfono Come peccato E' una paese Yo yo Grande gatto Vabbè Ho solo realizzato Solo ora che Coro mi hai detto Avvicino il microfono E ti prego Non lo fare Che succedono I disastri Tipo così E' troppo Un pelo Un pelo sì Un pelo Un pelo sì Andavi tanto Ah ma Luke Faddilo vedere Sì Va beh Hanno quello che voglia Ma chi è questo qua Bruno Conti Era quello lì L'ho visto Bruno Conti Chi è Jezzaro Posizione veloce Bravi Eh no Bravi bravi Io non vi capisco Ero lì da sole E ho preferito darne a uno In mezzo Eh non t'ho visto Riorganizziamoci Rada Della segreta Ho dato fastidio il giusto Marco E che vuoi da me Bianchi Perché c'è il Jezzaro Sto dietro Vai oh Vai oh Mi tampinano Mi tampinano Pampanella Pampanella La pampanella Che mi salto troppo Con questi giochi competitivi Pempe Pempe Morelli Allungamela Tutto a destra Ma che dici Qui non c'è margatura Ci sta Ci sta Mi piace Pi 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 Bravo Morelli Bravo Eri reattivo Bravo 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 Siamo tutti qua Tutti Per forza A Morelli E' giusto Una volta tanto Ah no Marco Ma dov'è che sei giallo All'inizio C'è la segretaria Ho sbagliato Ma miseria Stavo per sparare il pallone Nell'orbita Bravo Fabri Mi annaspo Non lo fare Capperì Oh scusa Ma a te Scusa Eh Corvo Corvo è spulso Corvo questa volta Se l'è proprio presa Ma che scusa Ma che scusa Dai Perché era un amore Sbagliato Dabbo possiamo riuscire Nel nostro intento Questo giro allora Ehi Devo falciarli Moro Che è successo Che è successo Come mai Era fuori gioco Fuori gioco Il 65esimo sarà Il tempo passa E ci avviciniamo A un risultato E' stato un incidente Amici Chiedo scusa 4 8 16 24 32 Buttatemela dentro Si fanno tre gol Si fanno Un po' più avanti Eh sono un po' stanco Ci provo Vabbè che al 75esimo Mi ridà la stamina Dabbo però Non andare troppo indietro Dabbo sei pronto Meno male che è tornato indietro No Dabbo E' indietro i difensori Dabbo E' che è successo La distrazione Dabbo come vedete La nostra punta di diamante Perché non mi fanno Giocare in attacco Tu sei in attacco Altrimenti Marco Io nel calcio Sono la punta di diamanti Alessandro Eh si Bravissimo Oh 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 Che fa mi bacia Ti sei baciato Ecco Ma che Bravo Corne Non era lì per me Diremmo che Corne Quanto sai Ho 88 90 Eh vabbè Che non puoi neanche più salire Più di così ormai Giocando Eh la voglio io Giocando non puoi salire No Eh ormai lui i punti Li ha finiti I punti Faccende Le pietre Quelli c'è tutte le abilità del mondo Ganchio hanno fatto Quals'un rigore rubatissimo Sono Cappati comunque Voglio cappare Ma allora dai Passiamogliela A loro Senti sto pubblico State zitti Per cortesia Che Pr 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 Vabbè li fischiano però Giusto Ganchio Non Ganchio Ti dico Ecco il tiro Ciao Lorenzo Non c'ha ancora No no Non l'ho saltato L'ho saltato la io Basta E' questa E' la fase Dai Dai E' la seconda Moro Ma non Siamo al 69esimo Vai Dabo Morelli Aspetta che adesso vinciamo Guardate quanto stringono Sono come delle scarpe strette Occhio Cerca l'area di rigore Cento gli hazard Possibile crossare Eh queste golle Guarda come la ciulata Niente Davo vai Addenta Attacca I loro I loro I loro Mi raccomando No effettivamente Non è successo Ho tornato anche io Ma bravissimo Senza fallo Senza bene Orca miseria Allora Sarà fallo laterale Tru tru Allontana ancora il microfono Per cortesia Corono Ti vedo ti vedo Dovevi fare prima Dovevi fare prima Io quando ho appena toccato la barra Eh perchè? Come si chiama? Pensavo di averla fatta Franca forse Pensavo di averla fatta Franca forse Invece era Franca Che c'era Fatta Bene Occhio Palazzo Quello mamma mia Bruno Conti Bruno Conti Bruno Pizzul Bravo già arrivando a questo piede di cazzo non cazzo quello è stato fallo tantissimo ci rivediamo dottor Morel ha detto guarda ce n'è uno giallo mi metto in punizione che tristetto non passerete mai bravo fortuna che gliel'hai detto e glielo volevo dare a Marco bravissimo era l'unico modo che portiere davo fammi cazzo mi butto in mezzo io ho la testa che twist davo bravissimo che paura Alex aspetta levo audio vedo trentasette mesi Alex trentasette come le gambe di Esprit grazie Alex che cazzo che testa che musica tra l'altro non lo sapevo non lo sapevo ti accordo meno male che se di livello 612 ma non è la verità mamma mia ho visto un fallettino ho visto un fallettino ma qui era per interrompere l'azione prima che succedesse il fatto dai Marco scatto su tu me la passi dai Marco gliela passi e poi rifallo ma che dici riesa bravissimo è palla piena quella roba è un è morto davo davo ma si partecipo parte vieni qua aia mora è distrutto è distrutto le anche mi fa male il fianco mi fa male ha fatto un drop non c'ho più le mutande si sono strappate ma cosa fa sto show mcg e vabbè vabbè che dance era questa qui sono abbastanza sicuro che in un nostro show di resti ci sia meno violenta ma non mi sono preso ah sì mi sono preso un giallo ma anche io tu ce l'avevi già il giallo ma non ne so sì 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 l'avevi già preso prima passano al loro Marco tiro incredibile era un tiro incredibile ma perché che si chiamai io a sua parziale giustificazione va detto che era molto distante dalla porta via la giustificazione che era molto distante ma no era gol e questo era la rimonta questo era un riscaldamento senti come perruzza al pubblico senti che schifo ah son salito perché ce l'avete con me ah no ma chi stava passando i video e c'era voi che mi venivate a picchiare non lo so chissà perché è partito a successivo l'unico espulso comunque è stato infatti che imbarazzo che io non faccio mai falli dovresti essere quello che dà l'esempio e mettete pronto per quello che ho visto scuse immediatamente dopo avergli specchiato non sono pronto adesso si infatti chi vince la prima è stronzo si sa beh la prima l'abbiamo vinta tecnicamente si ah mi piace siamo un po' eh ah santo cielo adesso ci rilassiamo riprendiamo la concentrazione e andiamo a spaccare altre tibie naturalmente io sono sempre pronto per il 45esimo ma dopo si riscata ero già in campo tiro palla per eliminare le persone niente tiro palla tiro perché Moro prima di aprire mi ha detto dai ti presto la mia maglietta il capitano è Luke per sempre perché sopra c'era un botto di seno Corne Corne allora fai i tuoi giri rilassati fai le sue rotatori scuse perché mi mette a destra ma che cazzo è vero scusami ma grazie toni toni cacone mamma mia che piedino da Pirlo che c'è e lo so che sei qua ebbene troppo tempo troppo tempo mi stavo in mezzo alle palle ho capito ma lo sai come Morelli ciao Sara di testa ciao di testa ciao di testa un motorino ciao Sara lo prendo dalle palle le mutande ehi questo è liquido che pugno bravo Moro chi è sono Aldo Baglio simpatico fortunissimo arrivo eh la prendo la prendo Bertin mi regali una ragazza dice Gianchio ho dato un calcio scusatemi era chiaramente una roba porno e no questo non lo era in realtà e allora ripassagliela dai ancora cos'è ping pong aia corvo t'ho preso da te no mi hai preso da bravo Luke ti piace in maniera molto bella di qua attenzioni mamma mia pipopi pipopi ma come è pipopi se tiravano l'ora tantissimo ovviamente noi rinvio naturale rinvio naturale cacone toni cacone tirilo bravo Luke che stop classico elegante cambia gioco non più non più è troppo tempo cos'è eh non sapevo a chi darla chi è 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 ora perché sei accanto a me che sono attaccato a me grazie d'arte gigio la palla penso non la prendesse Dabo invece non è successo ma tu aspettava nella tua posizione comunque ma perché mai non c'era un cazzo anche Dabo avanza spesso troppo oltre noi capito ma perché devo stare nella tua posizione se non serve a niente no perché serve per i passaggi bello bello come il bello perché se poi uno di noi la recupera non c'ha nessuno da quella parte esatto grazie striker 7 mesi era palese che non andasse da quella parte ma comunque rimani lì sono i ruoli stai lì la tua posizione scusa ma io sono poliglotta che fava comunque chi è cadonato prima è dart gigio grazie dart gigio mi dico questo piccolo perché siete proprio intonati e cattivi molto bello cosa moro bello e non leggo bene perché devo giocare molto bello sembravi vero tutto molto bello tutto molto bello ehi voglio bene grazie dart gigio e punto grazie a striker anche grazie a striker è vero fava bravo bravo è stato un intervento di postura questo qui di romeo romeo postura bravo corvo ho rimbalzato uno scusate vai tira pipon ma che tiri di merda il fantastico pipon adesso abbiamo un gol da fare io sto fuori dall'area sto fuori dall'area che finisce pronti eh moro lo sai moro lo sai si eccola vai luco ma che altro c'ero più centrale io eh ma perché beh io mancino ma tu sei tiro mancino è vero chi la prende? la prendo io corvo bello pazzi culi mamma bobo mamma mia Fabrizio ha detto il gatto di Torino non è vero da nessuno la prima volta che si chiama in questo modo che tiro di punta comunque grazie a miglio 98 13 mesi adesso dobbiamo dabbo rinviamo la sfalciata al 75esimo va bene vai fai anche 80 è miglio con l'8 dopo inviamo che non ci sarà se è miglio con l'8 dopo è migliottone no miglio 98 no migliottantottone è un tottone perché migliottone mi faceva rita a fil di palo eh questo qua a fil di palo però mi ha tirato un calcio quello vorresti esporre denuncia vorresti esporre il sedere eh non lo so dabbo ma io non l'ho mosso non è andata cosa è successo non è andata a conclusione che è terminata non è andata non ho capito niente senta di oh teee mi ha mancato quel pizza 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 non su però non su rroom rroom te sei un imbecile questo l'ho espulso no 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 non so mica moro no cioè marco perché tutti così avanti marco dove eri ma io vado bene eri la tua position non è esattamente perfetto eh ho alzato la gamba non so se avessi notato ero indifeso ero ah come è sarà battuto ma non è la faccia lo prendo da dietro ragazzi lo ferro lo ferro amici lo ferro lo tocco lo palpeggio come è umano lei bastia che segni parata di chi menti lo ferro lo ferro ma c'è uno che si chiama Lobigno ma basta tutti stai rovesciate che terribile lo ferro lo ferro ho travesso pinta la fammi il sesso io arrivo dall'altra parte e sto imbarassato lì è zero oh stia miseria era per mono io non ho capito perché l'ha tirata così piano bravo ottimo contenimento lì ma lo sappiamo che io non ho lo stop nei controlli ma allora cosa vi ingavinate lì in due è chiuso è chiuso non tenatelo sei pazzo lì era il mio classico calcio da partita solo che non è andato buon gioco no escilo come come è arrivato del balle cosa è successo comunque è una pesa fortissima nelle balle arturo duro fammi la torre vai luke bravissimo bello lorenzo con lukaku ti penso con lukaku ti penso giocatemi un ballone trovo a dare distanza ma carena meno male che in attacco c'hanno Johnny English di là guardi ma era poligioco ma perché va dietro guarda cosa cacchio gli ho rotto le gambe mi ha fatto del male guarda questo è il calcio di marco guarda che l'ho infortunato eh comunque certo ha portato il serpente con il mangiatore what a thrill no questo non volevo amici no questo qui non è questo qua ma non ho fatto niente giuri in giurel ma non lo so eh no l'avrebbe di solito quando deve spulgere qualcuno mamma che ma io non ho fatto niente quindi è giusto così cambio tutto ah che figura di merda Marco è proprio lui il grande fra che male è fra 2021 grazie mille eh offside grazie fra allora allora vado du ma dai questo era goal era goal si fa quando deve spellere qualcuno ferma il gioco si ferma il gioco si ferma anche le macchine fuori dallo stadio si 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 ma dottor strange arma al tempo un casino che cos'è è una segretaria che cos'è era garibaldi che cos'è aspetta il piccolo jingle però abbiamo ancora 20 secondi quindi ne faccio un altro garibaldi era un bravo ragazzo e niente si è abbastanza a caccare perché sono sempre a destra è la prima risposta che la ricotta vieni capito mi spawna adesso un è fermo grande spettacolo e niente ripreso che sforzo morelli l'hai fatta ho provato anticipare le feci sono dure ecco meno male problemi al portiere ha calciato la distanza siderale mancando completamente il bersaglio se fosse il suo giorno fortunato meglio lasciassi alle spalle ok francesco totti facci vedere come sei solo tu ma ero dall'altra parte siete persone che vi tampinano i piedi ero sudato e niente ha provato la portiera incredibile il rigore in attacco è fuori gioco in attacco infatti era fuori gioco ah era fuori gioco rudanzi era passato allo stronzo davanti ormai no corn corn che male no passate la prima sulle fasce che siamo sempre lì ma non è vero che sempre sulle fasce poi ci stupiscono marco corn vai là a destra i cross li prendiamo a parte il mio giocatore che di testa anche se al massimo non va bravo che tocco di fino come sei disperato bello anche questo ha fil di pallo mi è piaciuto eh sì volevo vedere se il portiere era ancora sveglio bello bello bellissimo incredibile con le sue mosse ho sentito peni dai ma egli ezzar eh c'è sei messo mezzorra sei messo bravo d'abbo arca miseria per un pelo d'abbo fa sempre la stessa skill tanto mi gira la testa infatti grande intervento grandissimo questo se non mi dai la palla guarda parlavo con galeazzi infatti non c'entrava niente allora sono sempre a toccare le palle nostre questi incredibile sulla vabbè bada cercare il buco della ripetazione ah non galeazzi e andrea no no galeazzi che il bistecco il bistecco è un gaddissimo la bacchio la bacchio allora prendete la scena ostia intanto il gol chi l'ha fatto eh Maurizio Salaceo eh guarda un po' ma che brutto quell'uomo era terribile era l'ho visto in un incubo sono sicuro è anche l'ottima posizione interessante non è vero mettiamoci tutti qua facciamo da barriero no io devo fare la mia classica dance che non segnano ancora sono io ma vado a mettere vedi non segnano mai col balletto sa che ci distraggono bravo come parla come parla Nava sarebbe venuto giù a star bravo sei tutto noi eh non si è voluto prendere questa responsabilità bene va bene va bene infatti bene va bene mi butto bene bene che bel tiro che era questo se il tramo era una portata sta giocando benissimo tipo il secondo piatto io l'avevo passata l'ho passata subito subito guarda davo dove è esterno destro guarda dov'è è molto esterno diciamo così ma non recuperare adesso davo che sei stanco guarda che sei stancato il tuo giocatore bravo di testa papà eh non lo so l'ho toccata per non farla prendere a lui bravo non hai più l'interno cosce però almeno allora questa volta dobbiamo pensare a come si devono fare qua arrivano i problemi moro perché che tuffo ragazzi ma io non lo so incredibile beccati questa non partiamo non partite tutti ma io sono giusto ma io sono lì è moro che ho sbagliato io sono giusto capito io devo andare in mezzo ma hai fatti io devo andare in centrocampo una volta che sono lì faccio quello che voglio fanno gol non ci sono io che vado a testa di toro addosso le persone così è un buco in mezzo enorme per quello devo andare in centrocampo ma il centrocampo è centrocampo è il centrocampo sono io e voi no non ci siete voi due ma ci sono sempre ma infatti io se non riconosco ma dov'è a chi non ci riconoscono la politica e dammi il tempo sono sempre centrocampo mi butto anch'io voglio sempre lamentarvi stiamo vincendo facciamoci espellere va bene sono stanco di questa partita non ancora però mi sto divertendo ancora un pochino entra sul pallone e concede la rimessa laterale ma camoronesi stavate mi fa ingazzare guarda morelli se stavi fermo prendevi la palla lo sai che l'avevo presa lì stavi immobile ti arrivò sui piedi spaccapalle pim vai avanti sono lì bravo torno è tutto duro è vero ok ma di mezzo ma cavolo vedi Luke che paura ma chi ha Luke cosa ha che cazzo nei denti è sempre acato Luke cosa è successo ecco è risolto risolto che paura guarda che tiro potente proprio da fuori classe era questo passaggio con l'urletto oh buono guarda che la distanza è vero di tette si è passato con quelle no no niente 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 il tuo giocatore c'ha un controllo di palla pari a zero no l'ho messo al massimo adesso e non è possibile ma che c'entra ma i punti contano un cazzo comunque eh sì perché c'ho il massimo alla velocità per dire e sono lentissimo perché sei anche tossissimo sono 1,85 e peso 90 no no peso 65 scusa eh ma non c'entra comunque i punti ho sbagliato eh infatti no ma non che è temporale ragazzi bravo Luke va bene va bene le statistiche le quali giocando come si diceva una volta scusami evviva il parroco ma la viva il parroco ma di garibaldi cerca la sovrapposizione una toccata coi tacchetti l'ho visto Enzo Iacchetti bravo Enzo Iacchetti Taccard Nardi di qua Taccard Nardi siamo di poste a sventaglione bravo aia corno bravo bravo ci stava ci stava mamma che butta tutti nei su postoni bravi io mi sono rialzato però guarda qui che serpente bravi notare Morelli che ha detto non la prenderà mai gol è mandato l'assist fuori la senti via sono sono occhiellini e non arrivavo mai lì ho questo fallo dipende cosa capita prima si pigna sette mesi grazie mille sto dietro io che se no guardalo lo spazzo nel culo bravo cosa ti con che con che con che urlo di battaglia corn con che urlo con che urlo di battaglia con che urlo di battaglia degno di ogni ro così freddo come quello di sandro corn è arrivato il nostro momento vai vai e niente beh beh 4 a 0 due tolchette dei cor eh si ah c'è Rita Levi Montalcini anche veloce alla prossima ma Mickey Beat grazie andiamo a Berlino andiamo a Berlino ci andiamo ci andiamo certo che ci andiamo come no come come no 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 siamo quasi mille amici quasi mille col di durino un culo a post non è vero pronto davo 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 è andato davo 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 oh oh davo così davo 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 è pronto imbecille adesso viene fuori il nero un momento di defecazione cerebrale e non stavo ascoltando che notizia che notizia che notizia negli denti la notizia tendenzialmente non stavo ascoltando dobbiamo fare almeno due pareggi per salvarci ve lo dico ma basta vincere queste se non le ho salvi dai vediamoci e la palla entra in culo dice giustamente e la palla entra in culo durigno che combo mamma mia che coppia di frazzi si scusa immaginavo immaginavo ma che notizia da usatevi fanco ciao mario ciao anche a me che bomba che ho tirato sono un fuoco che triangolazione del gol no non l'avevo considerato dicono 3 a 0 per telebets siamo contro gatto maschera maschera da tiri 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 maschera tiri 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 francesco totti della pizzeria francesco totti marco hai messo ultradifensivo ma non sono io il capitano ogni volta lo dico ah loro c'hanno il portiere fanno quella roba un po' un po' un po' c'è bravo a gestirlo ma infatti che tardi fatti voi farglielo bravo ma sti accucciato anche in modalità bambino subito da così bello ma che stranezza ogni tanto capito ma non c'ho la falla eh ma tu che sei sdraiato sotto di lui proprio è lui che è andato indietro dai ciampanella no dov'è il mio pallone no ha preso il pallone ha preso la pallone chiaramente anche io prima ma il muro è stato espulso ah no 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 ah non so dove sta andando muro ah non siamo noi adesso vai 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 bruno rissas eh ah blu porca miseria hanno bucato la rete ah no mi sembrava tantissimo che ho preso il dos ah ah pazzatura marco veloce il passabile dabo mi butto in mezzo ma dietro corvo cazzo bravo marco mamma mia ragazzi tiro ma è il calcio d'angolo è il calcio d'angolo è il calcio d'angolo abbiamo il gol assicurato dabo vai dentro tu che stiamo fuori io abbiamo il gol assicurato ok io ma anche stiamo fuori voi andati qui dentro eh ma sono in set qui ma che devo fare uh che rifa ecco cosa devi fare mi butto aha vai mulù che devo fare e ha segnato mamma mia è caduto è morto eh gli hanno tirato calci dopo si una sera pandemonium pene pepene pene pepene pene pepene vai il tag clan di liezer sul nuovo cod il pere pepene corna allora buttatelo subito fuori anche se ha segnato per favore guarda che gli hai segnato con la punta della fiera si con i tacchi con i tacchi con i tacchi questo colpo chi te l'ha segnato? il maestro miyagi? io no spero oh trapadagli la maglietta brimbalo rigore? rigoni? ma anche l'osmo da buono brutelli eh niente come brutelli? no no eh me l'ho tenuto dal contrario eh si questa era mark landers che palle alte posso fermarla in gola ti vedo vado vado corno wow che distrazione che abbiamo fatto mi avvicino dolcemente egliezer dai cornetelo bene niente il tiro bello bene bene nice calcio d'azimo abbiamo il gol a sicuro dabbo dabbo iettati intanto gliel'ho messa e il marco però pallone in mezzo uuuh quasi come prima cosa fa con lui? occhio dietro occhio dietro occhio dietro dove va? che fa? corre 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 va bene dai abbiamo a che fare con un pirla a quanto pare un buffone bravo bravo gianluigi bravissimo perchè la sto prendendo io? vai vai adesso ma perchè la valla lì è un po' più suzza e non ho il piede allora ten ten quello col ciuffo ten 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 un po' lunga ti ha inquiulato ti ha predetto c'ho uscito bello eh scusate stavo in ciaampai peccato peccato ero lì tor recupera palla eh va bene ha dover fallo eh si che fallo maschera mi ha tirato un calcio nel cu ma è spulso vai francesco non so se tirare o crossarla no sei un po' lontano mettila un pochettino più fai un po' dietro di me tutto io poi la passo dietro dietro la butto in mezzo bella mamma mia mamma mia mamma mia sembra un po' esagerato eh vabbè questo potevo fare infatti si va troppo forte scusi funziona il maggior portiere delle volte tabata manigli forbice su corvo mi butti in mezzo questi sono pallaci mi hanno rotto mi hanno rotto ma questi stai a noi hanno rotto l'urino non si è mossa di un centimetro la palla nonostante l'avessi presa a due piedi fuori gioco fino alla fisica di quella roveciata non era perfetta mai ma quanto sei adesso di totale tu corno mi sa che mi sa che come si chiama tigun buffe questo eh ma c'è tipo un 93 di tiri della distanza sulla fascia sulla fascia mi butto in mezzo mi butto in mezzo corna mente vai che tiro di lezzetto che tiro di pupa va bene ha un bel angolato proprio questo portiere mi sa che è imbriaco io ve lo dico eh eh bravo bravo moro è piaciuto quel verso eh 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 bravo lip vai claudio lippi aia che ribaltamento ma chi? ce la faccio ce la faccio aia non ce la faccio più il bambino lippi lippi tiri c'era chi mi dice? si guarda che recupero francesco a toti di gran classe e di gran ca sono anche in mezzo volendo tanta cacca dura che testa lunga che hai ma e sono scivolato sono scivolato sono andato via come un finò eh no ho provato a dar l'amor stone age eh che bacio che fai sapevo che voleva passarla lì veria corvo laggiù rovetenti rovetenti mai del mezzo mai dai dai di gran classe di gran fava e allora dai mettiti davanti no? palla in verticale sull'attaccante ma stiamo giocando non dentro dei gondolieri però non è possibile orca miseria questo è un inculare ma bettino craxi meno male che le hai detto corco che stanno per pareggiare eh no ma guarda la maglia però beh non faceva secco il portiere quasi eh bravo liezza mi vado lungo vai mudimbi mudimbi bello rocca miseria eravamo in 36 l'hanno presa loro tira no dai come fuori gioco? ah ok ho letto male scusa spazzano via il pallone piezzaro allargati si si ottima la verticalizzazione buona io arrivo che sono andato in difesa con la mia parte va bene calcio d'angolo siamo dei punti calcio d'anzimo si si sto fuori vai davo buttati buttati eh che situazione ma che notizia la mette porca miseria porca ma cosa fai? dove è andato? con calma con calma ragiona alza la testa ho parto d'ora per tornare in posizione dall'angolo bestia che male sono 30 minuti addizionali concessi dall'arco il pubblico di parte rumoreggio sono fantastico eh no devo continuarsi lo sbatto eh eh tu 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 lo metto eh c'era c'era ci stava ci stava volevo far vedere c'era ancora vino eh no è un po' rosetto no? è un rosato lontana lontana eh ah a me piacere di conoscerla ma cos'è? ha fatto il buffone vedi? se Dabo non era per terra liquido e continuava e potevano subire il gol della pareggio sei zitto è vero che Francesco Totti ha fatto una doppietta l'ultima volta ah no è soltanto tantanove tantanove? scusi i cazzi ma è tutto sicuro di essere dopo che l'hanno riusciata sei un toz sono un fin ha fatto 900 partite sto drogato ah è vero che ma sempre a destra mi metto non è possibile comunque quella è la sinistra ok eh adesso sono a sinistra ah eccoci sono Bettino sono Bettino Crax ah è vero che adesso corn prima eh vabbè fuu cazio ma dai perché peccato e l'ho soffiata via questi qui gli faccio vedere vai quando stanno per prenderti la palla vai col filtrante corn che ti allunga la palla e basta cazzo che pedata non c'è arrivata non c'è arrivata un pallone che si aspetta abbondantemente salvo grazie grazie nessun problema qui per il bocchiere era facile colpire al volo e far gol da lì pettino eh pettino e fanace vabbè vai porca troia eh sì eh sì prima non si fa il fuorigioco eh ah vedi beh io in centro dai vabbè in caso vabbè 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 che cosa era quel balletto? cos'era? 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 vabbè 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 c'è quattrocento traverse e dieci gol fatti in questo gioco un counter io lo voglio io lo voglio io lo voglio perché veramente ho battuto ogni record io c'è la batteria per andare concluzione potente e bassa mira sballata e pallone vabbè vabbè va bene smile che caspita vabbè vai via difensore delle devalle dai cacchio gialluca bravo dai dai come l'esperienza moro prendi il mio posto bravo controlla male e regala il pallone agli avversari bravo bravo però ero un po' indeciso l'ho lasciata lì che gioco volendo liezzare in mezzo sono duro ahhh ahhhh 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 vai signor Fabiola ahhhh c'è Fabiola che mozza passera un architetto corn sopra a destra a sinistra corn l'ho data a marco ma l'ho data a liezza non so perché era per te marco io volevo segnare almeno un gol me lo meritavo in questa partita tanto prende l'attraversa lo sai ho fatto 47 cose sono a 6 ancora te l'ho mostramelo te l'ho mostramelo aia non vale quello lì mi ha fatto lo sgambetto e non ha preso il pallone te lo mostro te lo mostro Mastro lindo tocco orizzontale vai Bettino eh l'ho presa con le mani oh l'ho presa con le mani l'ho presa con le mani l'ho presa con le mani guarda quello ero io guarda te guarda te la prenda eh è niente Bettino Ragadi uno intercettano Giazzar eh c'è vivo c'è vivo che pelle nelle palle le mani è possibile no ma lì ci stava a tirare dritto ah brutto bravo bravo bravi cazzo orca allora mi fanno arrabbiare ma sono senza stamina io ho dovuto fare il corrido oh questa qui è espulsione oh fischia l'arbitro bastardo ma che fai la punizione per cercare una deviazione vincente è un po' profonda bello ma perchè non sei andato perchè era 6 metri da te o ti allungavi in realtà non era così tanto ma mi arrabbio si come non ti arrabbiare mi adiro mi adiro ha ragione noi facciamo qualcosa e veniamo stati espulsi loro tranciano le gambe neanche i gialli io sono stato comodito al secondo minuto a me prima mi hanno espulso scusa dai dai schulz bellissimo va vijer per la mano torno orca miseria una difesa la media la la era un po' in difesa eccomi ehi 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 si dovrebbe essere buono vai 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 la nostra la nostra la nostra siamo i maghi del lato siamo maghi moro tutti 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 in fondo libero ma tutti in mezzo ma io non è inutile che vado in mezzo ma non me ne frega niente dai fastidio disturbalo disturbel jolly roger grazie il video sono qui in pop e niente a prescindere c'ero io e ma ora stava andando tutto fermato poi il gioco allora prendi la tua prendi la se io bevo e spugge sempre il gioco mi fanno perdere il tempo dai dai lo so che lo fai quanto corto ho caricato anche abbastanza c'è la traversa l'ho dovuta prendere comunque incredibile francesco toti dai incredibile no guarda corn io ti assicuro ci gioco dal 2012 non è mai successo come quest'anno da quando gioco a rocket league ci giochi di merda dal 2012 no perché non ho mai preso tutte queste traverse moro ora che ti alzo le mani e alzami le maniche vedrai che sudore vai cosa c'è dentro beh ci penso io ha 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 buchi di culo poi eccessivo eh mi ha bafferato andiamo ma dove vai piede di legno sono 400 di ping mi è andato via dove va king dove va king e passa la mano è arrivando no sono di fargli sto e porca troia eh dai sono lulù i miei comandi rispondono molto male amici francesco terno moro io siamo sette siamo sette è blu gli vado via che fissor sei pazzo ma quindi ma durigno che cazzo vuoi oh gli sei andato nella panza hai fatto il favone paralli e si che c'è il nome moro nella telecronica italiana sono io una telecronica dai abbiamo vinto tre vittorie oggi eh tre vittorie mamma mia cinque cinque sette sette otto a natale perché avevano un rugore un rugore dovevano una ruga dai dai comunque amici grazie a tutti i diversi seguiti di questa giornata grazie a tutti ci sono anche io un pochino con la secca facciamo dei piedi molto grossi sono veramente contento Marco allora vi lasciamo con la live del il gatto sul tubo andate a controllare il suo grazie a tutti i nostri spettatori